C'è un fermo per il tentato omicidio di Nicola Liguori, il 36enne dato alle fiamme mentre era a telefono la notte tra giovedì e venerdì nel comune di Frattamaggiore in provincia di Napoli. Il fermato è Pasquale Pezzella, nominato da Liguori al fratello prima di perdere conoscenza. Si trovava a casa di un familiare quando è stato individuato dagli agenti di polizia, il furto di uno scooter di cui Pezzella incolpava Liguori, il movente del tentato omicidio. Il 36enne stava chiacchierando, in videochiamata con la fidanzata, su una panchina di Viale Tiziano, quando una persona alle sue spalle si è avvicinata. L'hoacco sparso di benzina e con un accendino gli ha dato fuoco, poi è fuggito. Liguori, avvolto dalle fiamme, è riuscito a buttarsi a terra in qualche modo, a spegnere il fuoco, poi semicosciente è corso a casa, poco distante, ha chiesto aiuto al fratello che l'ha immediatamente portato all'ospedale di Frattamaggiore. Ma le gravi condizioni dell'uomo, per lui ustioni sul 35% del corpo, hanno spinto i sanitari a trasferirlo con urgenza al centro grande ustioni del Cardarelli di Napoli, poi al Policlinico di Bari, ora in coma farmacologico ricoverato nel reparto di rianimazione. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e sarà subito ascoltata la fidanzata di Liguori, l'ultima ad aver parlato con lui prima dell'aggressione. La donna ha raccontato che durante la videochiamata ha notato una persona che si era avvicinata al fidanzato rovesciandoli del liquido addosso, poi le fiamme appiccate con un accendino e qui la telefonata si è interrotta. Il raid potrebbe essere anche la conseguenza di qualche lite dei giorni precedenti oppure altri elementi legati al passato dell'uomo che ha precedenti penali. Io l'avevo distrutta la vita, io l'avevo distrutta a me, l'avevo distrutta a tutto quanto, l'avevo distrutta, fratto non lo pò neanche una volta, mi chiamano per dire il telefono, la gente che agliano e stemano per fare il mio pacchetto, hanno fatto questo, perché c'era una buona faccione.